buongiorno a tutti videomatori tutte le videomatrici di senza fissa dimora questo video che vedete fra pochi secondi è stato bloccato su youtube per 11 secondi di video mi hanno bloccato tutto il video la scusa è stata copyright guarda caso in quel momento lì dicevo una frase un po particolare parlavo della cultura lgbt ed è proprio la presentazione dal minuto 7 al minuto 7 12 secondi ho sostituito il video con una diapositiva una foto che gira in rete tra l'altro questo video è presente in rete ovunque ma nel mio video è stato bloccato però facciamo finta che siano tutte casualità però sto preparando il secondo video delle olimpiadi che uscirà fra poco grazie a voi ve lo ripropongo quello vecchio in attesa di quello nuovo ciao a tutti videomatori tutte le videomatrici di senza fissa dimora benvenuti in questo nuovo video servitevi un tè un caffè una tisana allacciate bene le cinture di sicurezza alla vostra poltrona preferita perché oggi parliamo delle olimpiadi di parigi giochi olimpici 2024 oggi iniziano in verità sono iniziate ieri le più disgustose e infami olimpiadi della storia moderna dove tanto per cominciare a essere chiari è stata vietata la partecipazione di atleti russi e bielorussi che non rinnegavano la propria patria perché sono stati obbligati a non portare la bandiera non cantare l'inno delle proprie nazioni ma è stato tranquillamente permessa la partecipazione degli atleti israeliani due pesi due misure ma la bilancia della verità la bilancia del buon senso e del buon gusto è completamente sfasata infatti volevo fare questo video ieri lo stavo preparando poi ho visto le prime immagini della cerimonia di inaugurazione ho detto mamma mia scusate scusate ma veramente non sapevo non ho parole per descrivere una porcheria del genere blasfemi satanisti lgbt proprio a profusione distruzione delle immagini più più forti nella nostra cultura l'antica grecia le olimpiadi sono una tradizione millenaria una cosa che è nata per tantissimi motivi anche buonissimi motivi geopolitici politici di unione dei popoli nello sport per combattere le guerre ma è stata strumentalizzata già da almeno cent'anni ed era proprio cent'anni fa nel 1924 che si svolgevano le olimpiadi a parigi quelle tanto volute da quello che in molti in francia dicono il fondatore delle olimpiadi moderne pierre de coubertin un personaggio che un'operazione di marketing di pulizia delle immagini della del monopolio della verità come lo chiamo io c'è wikipedia ha veramente cavato tutto da questo personaggio ha fatto una costruzione fiabesca di un personaggio che è stato vicinissimo al terzo reich che scrisse una lettera a hitler arrabbiatissimo perché di fianco ai palazzetti dove si svolgevano le olimpiadi ci sarebbero state anche le donne le femmine le olimpiadi femminili non dovevano esistere le donne dovevano restare a casa a fare figli e lavorare secondo pierre de coubertin in una famosissima lettera che ovviamente su wikipedia scompare meravigliosamente ma nel 2024 invece due pesi due misure vanno quasi dalla stessa parte cioè difendono quello che sta succedendo a gaza ignorano in verità quello che sta succedendo a gaza fanno stendono un tapiruja agli atleti israeliani quando israele sta facendo un macello un vero e proprio genocidio in palestina sulla terra palestinese sulla striscia di gaza dall'altra parte abbiamo un trattamento opposto per i russi ma siamo a parigi e siamo a parigi nel 2024 44 mila barriere di metallo sono state montate in tutta parigi 44 mila una cosa incredibile una cosa come cinque volte il perimetro della terra in barriere dentro parigi è stata blindata è diventata una galera a cielo aperto proprio come gaza ma una galera perbenista una galera che ha distrutto completamente il commercio ristoranti in crisi ristoranti vuoti ovunque bar pasticcerie ristoranti vuoti ovunque impossibile in alcuni casi attraverso attraversare la strada per attraversare la strada si deve fare un giro lungo svariati chilometri dove normalmente si passava in un passaggio pedonale le olimpiadi della vergogna le hanno titolate quasi tutti i giornali di controinformazione pubblicano notizie su notizie su notizie non riesco a smettere di raccogliere notizie incredibili su queste olimpiadi 540 mila dollari all'anno sono destinati al direttore della comunicazione internazionale del comitato olimpico 540 mila euro per fare una porcheria del genere una piscina creata per i giochi olimpici con un palassetto annesso è costata 90 milioni di euro in più del preventivo e fin qui si sa i pressi vengono gonfiati le olimpiadi sono questo un gonfiamento dei pressi una speculazione finanziaria da parte di questi gruppi enormi che vengono e devastano la città creando dei mostri architettonici che poi nella stragrande maggioranza dei casi rimangono vuoti ma questo palassetto non rimarrà vuoto perché contiene un terzo degli spettatori che doveva contenere ma udite la piscina non è delle misure giuste la lunghezza della piscina non è olimpica ed è finita così a baguette e croissant atleti che si lamentano perché in mensa non c'è da mangiare a causa di ritardi delle consegne non hanno neppure i vestiti gli uniformi ufficiali da mettersi non ci sono le uova nella mensa hanno letti in cartone fischi durante l'inno israeliano delegazioni di polizia che arrivano da tutto il mondo fottendosene altamente della sovranità nazionale delle nazioni siamo ritornati persino all'utilizzo del qr code un qr code necessario per entrare in alcune zone di parigi in una zona vastissima di parigi ci vuole il qr code illeggibile al sole atleti ucraini questa volta che a parigi si lamentano perché devono portare un braccialetto elettronico con geolocalizzazione lo ha affermato il ministero dello sport ucraino una misura forzata che eliminerà il rischio del mancato ritorno dei nostri atleti questo ha affermato il ministero della gioventù dello sport ucraino vadim guzait ma ritorniamo alla famigerata incredibile indescrivibile vomitevole cerimonia di inaugurazione una versione lgbt più qualche cosa in versione satanista che riprende l'ultima cena di leonardo da vinci quello che in francia chiamano leonardo da vinci dicendo che è francese per molti francesi leonardo da vinci è francese talmente francese che l'hanno messo pure nella cerimonia di inaugurazione smembrandone tutti i significati una cosa inguardabile c'è persino una bambina nel mezzo di questo purpurì di travestiti di transessuali di maschere del peggio del peggio scusate ma non ho più parole non ho niente contro un travestito ma ho molto contro chi mette in scena delle cose del genere perché dovrebbero rappresentare lo sport che cosa a vedere questa scena qui con lo sport che cosa hanno a vedere loro con lo sport perché un transessuale deve portare la fiamma olimpica dentro le mura del senato di parigi perché loro devono rappresentare lo sport che cosa hanno a che vedere con lo sport queste persone e infatti poi tanto per rimanere in tema canta lady gaga o vediamo questa scena in cui un pianoforte brucia in mezzo alla senna da una parte celine dion dall'altra lady gaga non c'era nessun cantante europeo francese in grado di rappresentare il proprio paese parigi la città più bella del mondo rappresentata nel peggiore del mondo nel modo possibile e c'è chi ha pagato pensate più di 11 mila euro per avere un posto seduto per guardarsi questa schifezza una roba inguardabile un miliardo e quattrocento milioni di euro di denaro pubblico per pulire la senna e renderla bagnabile dove ci si può fare il bagno in verità non è stato fatto nulla un miliardo e quattrocento milioni spesi dal comune di parigi per pulire la senna tutto per i giochi olimpici credo che un punto così basso nella storia moderna non sia mai stato raggiunto